Paolo Paoli New, iscriviti al canale, mettete mi piace, non mi piace, condividete e commentate. Siamo però a Tokyo, quando andiamo a questa città, arriva Torino, gli amici del rally, corri di più, sei con Torpolino e gli amici del rally, evviva! Sei con Torpolino e gli amici del rally, ed ecco i concorrenti, sei con Torpolino e gli amici del rally. E Topolino, Pippo e la logica, i logico provenienzari, soggetto di sceneggiatura di Giorgio D'Antona e di segni di Luca Ozai, dove parla di cavolo cavolo che è. Sì, è tornata Mini, guarda! Grazie alle sibertani di aver fatto tornare... Mini? Oh, c'è Mini! Nella seconda storia di Mini, dove Mini è andato al mare. Questo sembra luglio. Mini stava andando in aero in vacanza. E Topolino guarda l'aero, ma non ti sembra un mondo d'estate. E Topolino dice che sì! Vabbè, allora, cosa Pippo e il suo albero genealogico? Wow! E Mini è cazzata! Devono trovare Mini? No! Pippo e Topolino, in questo fumetto, trovano i genitori di Mini e di Topolino nell'albero genealogico. Poi abbiamo la pubblicità delle giovani marmotte 115, quello che è. E poi c'è la posta con quelli che tovi fa per il... A giugno ci sarò. Siete pronti? Saremo famosi! Saremo famosi nella rivista di Topolino. Quest'estate. Siete di stare lavorando, di metterci noi su Topolino. Sarebbe bello. E poi abbiamo Mini. Mini? Abbiamo Mini? Ragazzi! Sì! Ho visto! Torna anche Mini in Nuova Storia in questione di stile. Ma guarda! Una nuova boutique. Quella è una sorta di parodia italiana di Mini Boftunes con Mini Papperina, ma stavolta è Mini con altri. A tutte le fasciunisce, non perdere il prossimo numero se saperi più. Guarda, c'è Topolino e Pippo in copertina. Guarda, bello. C'è Mini. Che bella. Bellissima. 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 Scrivete nei commenti qui sotto se su Topolino abbiamo Mini in tutte le storie. Guarda com'è carina Mini. Poi abbiamo questa settimana in edicola con 100% affari. Zio Paperone. La copertina prossima. Paperino in team e Paperini. Ragazzi, non so cosa vuol dire. Beh, certo. Queste storie sono un affarone. Ragazzi. e questo sul 3417 non perdetevi più tutte le 24 ore di corso di e troveremo Archimede con una plancia da chiù. Ragazzi non abbiamo Zistira e poi abbiamo la storia principale del mitico Topolino con Topolino e la micio minaccia. Guarda la copertina. Topolino assomiglia a Pluto. Hanno tutti il ghi. Ma dai. Chi ha paura del gatto? Poi Zio Paperone e la 24 ore di Paperopoli. Siete pronti? Si parte. Mini Precci una nuova beauty. una nuova beauty che torna la mitica Mini. Wow! Alice Bertagni. Grazie per Mini. Non c'è di che. Non è in paradiso Mini. C'è sempre. Si Mini ha perso solo in due storie da adolescente da adolescente e da grande. A me mi piace Mini. Mini è il mio personaggio preferito di Topolino. Anche Mozzi e Lucky Bat lo amano. Va bene. Va bene. Zitto. Coglione. Viaggio del dollaro della gente è la grande corsa Viaggio del dollaro di Alcetti in un'altra città e Brigitta è l'affarone del Papamondo. Paperina, Mini, Topolino, Pupupo, Plutto e Paperino. Ci sono tutti i personaggi di Topolino sepito di avventure. C'è anche Paperina. Guarda. E Mini è in una nuova boutica Paperina. Sono separati. E poi abbiamo anche il corto di Paperoga in Visaria Sordite. Freddure d'occasione. Leggiamo insieme. Quindi sono apparso in una storia e in un corto forte. Ehi cugino lo sai l'ultimo? Tu? Che? Dove lo sapere? Queste cose passerete per il vento e l'aggione al senso dell'obbligo dei miei gaccetti? Guarda. Paperino somiglia a Norverse di Smaegò. Senti qua. In cavallo entra in un bar e il barista gli dice perché quel muso lungo? AAAAAAAH! 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 Fortissima! AAAAAAAH! AAAAAAAH! Ma paperina? Però non ricordo come finisce. e poi far ridere sono apparsi in una storia in un fumetto è forte poi apparirò nella prossima settimana apparirò sia in un'altra storia e sia in un fumetto forte sì mi dispiace qualcuno che dice ho trovato la pubblicità di Pokémon Snap perché in un video di Youtube di ZioA lei ha detto em perché questa pubblicità di merda? toglietelo subito le pubblicità dei Pokémon non voglio travienere i piedi poi abbiamo la pubblicità dei grandi classici Disney schifo e poi alla fine c'è la pubblicità di Zio Paperone un pollo aaaaaaah aaaaaah aaaah io non sono un pollo adesso mi sono spaventato e conclusione arriva la seconda uscita della 24 ore di Paperoppoli che esce sia Archimede e sia la prancia del gioco come il gioco dell'occa vedremo vedremo sicuramente di vedere e ci sa il ritorno della mitica mini il ritorno della mitica mini la mitica Paperina che è tornata a riempirsi il secondo la seconda parte della grande corsa beh Tizio Paperone secondo me di merda non ce ne più tanto sia questa è la migliore amica di Gastone quella mi assomiglia ci siamo andati vicino che assomiglia molto alla alla mica di Paperino Paperotto questa ebbene si Topolino e le 24 ore di Paperoppoli commenti cosa ti è piaciuto Topolino beh c'era Mini stava andando al mare beh io adoro Mini è apparso solo in due storie è forte evviva voglio leggere per tutta mia la storia di Mini perché adoro Mini è il mio personaggio preferito beh ragazzi noi ci vediamo lasciatevi un like se ti è piaciuto e iscrivetevi al canale lasciatevi un like iscrivetevi al canale e commentate e alla fine del video vi lascio l'immagine ufficiale con la playlist e il video dei fumetti di Topolino e da giugno arrivano la categoria fumetti Topolino non vedo l'ora di vedere e farò dei disegni su voi e li prendetevi e li metterò nella posta noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti si ti devi spaventare ti devi spaventare che cosa? un polo va bene la prossima corsa sarà durissima ragazzi restate qui aggiornati il prossimo sabato ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.